Per Naturarte Nell'estate 2014 ha lanciato il suo messaggio ecologico L'ho ricordato anche nelle umide e nebbiose giornate d'autunno E l'ho promosso nel freddo e bianco inverno nella cornice della favolosa cattedrale vegetale L'ho celebrato in primavera tra un tripudio di fiori e colori Ed ora vi aspetto all'orrivecchio per condivisere insieme a voi il suo lungo viaggio nel tempo Grazie 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 Grazie